Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma rallentamenti tra Firenze Sud e Incisa Reggello per il transito di un trasporto eccezionale in direzione Bologna. Ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Aglio per lavori, uscita consigliata provenendo da Firenze Badia. Sulla Fipili chiusa la rampa di accesso allo svincolo di Livorno Porto in entrata in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia chiusi in entrata e uscita gli svincoli di Follonica Nord e Gavorrano in direzione Roma. Sulla statale Trebbis Tiberina riduzione di carreggiata per fondo stradale dissestato tra Madonnuccia Poggiolino e Sansepolcro Nord. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!